Non ha riaperto quest'anno la scuola di Montepagano, diversi i motivi, vogliamo un attimo spiegarli in concreto. Come al solito l'amministrazione comunale, così come è fatto negli anni passati, ha chiesto all'ufficio scolastico regionale un'ulteriore proroga perché ricordiamo che il plesso di Montepagano non aveva più il codice meccanografico dal 2009 ed in più quest'anno c'è stato anche un parere da parte del Consiglio d'Istituto che sostanzialmente diceva di accorpare le aule della scuola di Montepagano al plesso di Santa Lucia per cui alla luce anche di questo l'ufficio scolastico regionale ha ritenuto di non dare un'ulteriore proroga per l'apertura del plesso di Montepagano. Qualche disagio per i ragazzi? Sicuramente dei disagi ci sono stati ma più che disagio parlerei anche di una presa di posizione da parte del vecchio borgo giustamente perché si vede privata di una struttura, la prima del comune di Roseto aperta e quindi sicuramente è un ulteriore problema che si aggiunge a quelli già esistenti a Montepagano. Noi riteniamo comunque che una frazione per essere viva ha bisogno anche di altri interventi a medio-lungo termine che possano far sì che quei 25 ragazzi che oggi erano rimasti a scuola a Montepagano possano crescere di numero per far sì che questa struttura possa essere anche caratterizzata per un'offerta formativa mirata insomma perché così altrimenti i ragazzi erano anche un po' penalizzati rispetto agli altri ragazzi e degli altri pressi scolarsi dove c'è un'offerta formativa sicuramente superiore.